Dopo l'incendio all'arte carta di Scafati arriva il monito del sindacalista della CISAL, Luigi Vicinanza, che chiede subito sgravi fiscali dal comune di Scafati, dalla regione Campania e dalla provincia di Salerno per i titolari della ditta distrutta dal rugo. Vicinanza rivendica il massimo impegno dalle istituzioni per sbloccare subito gli ammortizzatori sociali per i 54 operai della fabbrica. Il silenzio di quasi tutti i sindacati sulla vicenda è davvero paradossale.